Il cantiere del mercato coperto a Teramo è al centro di un acceso dibattito sulla sicurezza e l'incolumità pubblica. Una polemica portata all'attenzione dal consigliere comunale di Forza Italia Carlo Antonetti che ha sollevato dubbi sulla regolarità della modalità di riqualificazione dell'edificio situato nel cuore del centro storico. Io mi chiedo, chiedo ai cittadini e chiedo soprattutto alle autorità competenti e al comune che è ovviamente l'appaltatore se i lavori che si stanno eseguendo al mercato coperto di Teramo siano regolari in relazione alla tutela della sicurezza, della salute e della incolumità pubblica. Stiamo parlando di un edificio di grandi dimensioni che stanno sventrando senza che ci sia una minima copertura del perimetro di questo immobile che è lasciato al cielo aperto e senza che ci siano le dovute impalcature che sono obbligatorie per legge. Visto che comunque la zona è aperta al passaggio degli auto e dei pedoni e che in un mese è stato praticamente distrutto e allora le autorità competenti, nessuna esclusa, ci devono dire se questi lavori sono rispettosi della normativa in materia, se sono regolari perché questi sono temi fondamentali che non possono essere lasciati in secondo ordine rispetto a niente. L'ex mercato coperto situato in Piazza Verdi è destinato a diventare un centro per la promozione delle eccellenze locali ma in particolare Antonetti ha messo in discussione se le operazioni in corso rispettino le normative vigenti per la tutela dell'ambiente e delle persone. Questa è una problematica che è stata segnalata da diversi cittadini? Assolutamente sì. Guardate, è incredibile passare a piedi quotidianamente in via Stazio e nella via adiacente che porta a Piazza Verdi in una situazione in cui a cielo aperto vedi questi lavori, queste ruspe che abbattono i muri e sventrano questo immobile senza che ci siano le imparche dove stiamo parlando di un lavoro di circa 7 milioni e un lavoro di 7 milioni non presuppone una tutela fondamentale di queste cose? Io faccio domande, spero che ci siano risposte, che tranquillizzino la città o che facciano rispettare le norme laddove non rispettate.